Prima chiamavo tutti quanti «Ciccini, Ciccini, come state?» e sussurravo, parlavo di tutto molto a bassa voce. Solo che a un certo punto c'era il pubblico del radio e non ci piace la parola «ciccini». E non so come una di quelle puntate è uscito fuori «cicciolini». Da quel momento è arrivato «cicciolini», pubblico, «cicciolina» e quindi… Ho capito. Voglio amarvi tutti, tutti, tutti e voglio fare l'amore con voi questa notte. Hai capito bene? Proprio con te. Oh, cicciolino! La signorina Staller è una specie di callas del sesso, cioè ha una voce così che è inconfondibile, molto apprezzata da un grande numero di estimatori, mi dicono, è vero? È vero, sì. Lei è molto seguita. Diciamo che sono la missionaria dell'amore.